Scopriamo Giotti Vittoria, questo nuovo brand di veicoli commerciali che distribuiamo qui a Treviglio adatto alle esigenze dei piccoli artigiani dei comuni per entrare nelle piccole realtà, andiamo a scoprirlo insieme. Il veicolo è un 4 metri e venti di lunghezza con un metro e mezzo di larghezza per cui veramente adatto alle piccole strade quindi comodo per ogni utilizzo. Questa è una versione con ribaltabile tre lati ma è possibile averlo sia col cassone fisso sia senza cassone in modo tale da poterlo personalizzare come si vuole. Abbiamo già di serie l'autoradio, l'ABS, il doppio airbag, è un veicolo chiaramente da lavoro ma con tutti i comfort. Ora vediamo come funziona questa versione equilaterale ribaltabile quindi abbiamo il comando e il telecomando arancione all'interno dell'abitacolo e con i pulsanti up and down facciamo salire e scendere il cassone. C'è la leva di sicurezza da schiacciare, c'è un po' di rumore perché appunto deve l'avvisatore acustico deve far sentire la manovra, ovviamente poi spostando i ganci di fissaggio si ribalta nelle tre posizioni quindi lato destro, lato sinistro e posteriore in questo caso l'abbiamo fissato posteriormente e quindi si ribalta nella parte posteriore. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.